Buonasera a tutti! Finalmente siamo riusciti a fare uno spettacolino. Abbiamo iniziato a fare questo piccolo spettacolo per dire noi ci siamo ancora. Noi siamo ancora qui. Abbiamo passato tutto questo tempo del lockdown pensando alle prove, pensando ai programmi, pensando a tutto quanto ci siamo persi. Noi ci siamo. Riprenderemo, vogliamo abbracciarvi e vogliamo sentire i vostri applausi il prima possibile. Grazie a tutti per la concessione del vostro tempo. Un bacio! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!